Emergenza Covid-19 In consiglio regionale si parla di scuola No al sovraffollamento delle classi Sì a organico Covid Approvata con voto unanime La proposta di risoluzione Istituti di istruzione tecnica superiore Un'opportunità per il lavoro L'aula di Palazzo del Pegaso Ha approvato con voto unanime Una risoluzione di iniziativa Della quinta commissione In consiglio regionale si parla di scuola In vista della ripartenza Le criticità prodotte dal sovraffollamento Delle classi e sulla richiesta di attivazione Dell'organico Covid Anche per l'anno scolastico 2021-2022 Sono al centro Della proposta di risoluzione Approvata dall'aula con voto unanime E illustrata dalla presidente Della commissione cultura Cristina Giacchi Che si è concentrata sul dimensionamento Della scuola pubblica Un sistema di norme complesso Fermo al 2009 Io ritengo che innanzitutto Il primo problema sulla scuola Sia quello di arrivare con Un'adeguata vaccinazione Per cui noi riapriremo il portale Fra pochi giorni E in questo caso metteremo Una voce specifica Anche per i ragazzi Dai 12 ai 16 anni Che finora non avevamo mai Preventivato nella copertura vaccinale Naturalmente Da un punto di vista oggettivo Noi abbiamo da aprire Le prenotazioni Ma contemporaneamente Le vaccinazioni seguiranno Il dopo per agosto Proprio perché I poco più di 100.000 vaccinanti Possano essere dal 15 d'agosto All'inizio della scuola Prevista appunto Per la seconda settimana di settembre In grado di essere vaccinati Devo dire che Per quello che riguarda le caratteristiche Noi avremo il trasporto pubblico All'80% Questo è l'obiettivo Che ci poniamo E avremo la possibilità Di offrire Proprio in coordinamento Con gli uffici Del Dipartimento E la pubblica istruzione Di livello regionale Con i funzionari Delle occasioni Di incontro Per capire Come si prevede Diciamo Di comune accordo Di poter procedere Nella disposizione logistica Delle classi Della composizione All'interno delle scuole Di quelli che sono gli aspetti Che garantiscono la prevenzione Del resto La situazione vaccinale Oggi in Toscana Si presenta buona Anche rispetto alle punte d'aumento Che invece vediamo Pur nell'attenuità Dei contagi Avviene in altre regioni Questo rende la Toscana Diciamo sicura Sul piano delle possibilità Di estensione Della pandemia Ma contemporaneamente Ci impone Di essere sempre In guardia E soprattutto Di utilizzare Questi mesi estivi Per le vaccinazioni E sono contento Che noi stiamo Continuando a proseguire Su un ritmo Di 30.000 vaccinazioni Il giorno E questo ci porta Ormai Su punte Che si avvicinano Ai 3 milioni e 3 Come livello Di vaccinazione complessivo Nella nostra regione Che non dimentichiamo A 3 milioni e 668 mila abitanti La quinta commissione Ha proposto all'aula Una risoluzione Che impegni la giunta A chiedere al governo Due cose fondamentali Una è la revisione Della norma Regolamentare Che governa Il dimensionamento Della scuola Cioè che stabilisce Il numero minimo E massimo di alunni Presenti Nelle classi Perché questa norma È vecchia Ormai di molti anni E l'ultimo aggiornamento Risale al 2009 Chiaramente non tiene conto Delle necessità Di distanziamento Tra gli studenti Che invece il covid Ci ha imposto E che ha visto La didattica Sospendersi Quando questo distanziamento Non poteva essere garantito Allora chiediamo Che venga rivista Questo limite E venga abbassato In modo che le classi Siano composte Da meno studenti E che si possa garantire La frequenza In presenza In sicurezza L'altro punto fondamentale Nell'attesa Che avvenga Questa importante Modifica normativa È che venga Predisposto Anche per quest'anno L'organico covid Il cosiddetto Organico covid Cioè un contingente Di insegnanti In più Che consenta Di fare più classi Con minore Al minore Numero di alunni Per classe Questa è una risposta Di breve periodo Immediata Chiaramente implica Un impegno di risorse Importanti Per il ministero Istruzione Ma crediamo Che il bene E il valore Della didattica In presenza Siano da tutelare Da salvaguardare In ogni modo Con la ripresa Di settembre Per questo La quinta commissione Ha proposto all'aula Approvandola All'unanimità Un provvedimento Che chieda Di attivarsi Incisivamente Con il governo Per ottenere Queste due Modifiche Bisogna lavorare Fin da subito Per consentire Una ripartenza Della scuola Quando terminerà L'estate Nelle condizioni Che mettano Veramente i ragazzi Di poter lavorare bene In presenza Fare tutte le Misure Adottare tutte le misure Che consentono Soprattutto ai ragazzi Di stare in classi A distanza Avere docenti Un numero congruo Ma soprattutto Un atto importante Il nostro Quello che porta All'utilizzo Dei tamponi salivari Come grande elemento Di novità Tamponi salivari E' una cosa semplicissima Basta masticare Come fosse una gomma Tempo pochissimi secondi Si ha la risposta Non è invasivo Si può fare anche Più volte durante la giornata Si può fare prima di entrare Prima di uscire Ed è un meccanismo Semplicissimo Io Questo atto è importante E abbiamo chiesto Che la regione toscana Sia apripista Su questo percorso Per le scuole Per la didattica in presenza Ma anche per lo sport Per i centri educativi Per i centri di socializzazione Per la ripartenza Di un quadro di normalità Che quando sarà a settembre Ci consentirà quindi Ai ragazzi Di avere delle opportunità Di stare in presenza Senza doversi sottoporre A tamponi O senza fare Eccessive livelli Di precauzioni Così come avviene di fatto Nel mondo Dello sport professionistico Adesso si potrebbe fare Perfino Nello sport E nelle scuole Con tamponi salivari E questo sarebbe Un elemento Di grande novità Sicuramente Sono delle misure Che sono utili Ma dobbiamo pensare Naturalmente A quello che è poi Anche il benessere Degli studenti All'interno Delle loro aule E credo Che sia necessario A questo punto Cominciare a pensare Anche a delle soluzioni Differenti E modulari Per gli spazi Nel quale I ragazzi Vengono accolti Questo non soltanto Nell'ottica Dell'emergenza covid E del necessario Distanziamento Ma anche per un benessere Degli studenti E degli insegnanti All'interno Delle aule E delle scuole Bisogna dire Che la regione toscana Da questo punto di vista Non è sicuramente Ben messa Perché abbiamo Moltissime scuole Moltissimi istituti Che non rispettano Nemmeno i requisiti minimi E questo lo avevamo Verificato Con dei sopralluoghi Che avevamo fatti Negli anni scorsi Quindi si parte Da una situazione Piuttosto negativa Decisamente E sarà necessario Quindi un'accelerazione Da questo punto di vista Perché non credo sia possibile Accogliere di nuovo Gli studenti In condizioni Inadeguate Con il nuovo anno scolastico Studenti che hanno sofferto Veramente molto Per la didattica A distanza La mancanza di socialità In questo periodo E il contatto diretto Tra di loro E con gli insegnanti Quindi tornare Prima possibile Alla didattica In presenza E al 100% E garantire anche la sicurezza Deve essere Una delle nostre priorità Sostenere il consolidamento Dell'offerta Degli istituti Di istruzione Tecnica Superiori Toscani Per dare una risposta Logica e consona Ai bisogni Formativi E rispondente Alla domanda Di nuove ed elevate Competenze tecniche Da parte del tessuto Imprenditoriale Dei singoli territori Il Consiglio regionale Ha approvato All'unanimità Una risoluzione Presentata Dalla Commissione Cultura Questa risoluzione Nasce da un lavoro lungo Fatto dalla quinta commissione Di un percorso di audizione Di tutti i soggetti interessati E di ascolto Delle istanze Dei territori La formazione professionale Terziaria Cosiddetta Cioè di livello superiore Paragonabile all'università Ha avuto un forte impulso In questi anni E adesso È in corso Una riforma nazionale Della legge istitutiva Degli ITS E anche Un forte incremento Dell'investimento In questo settore Di formazione Che nasce dal PNRR Quindi Con la nostra risoluzione Anch'essa approvata All'unanimità Abbiamo chiesto All'Aula Di sollecitare La Giunta Nel monitorare L'avanzamento Della riforma E nel dare ascolto Ai territori toscani A tutte le province Ai settori industriali Perché si dia risposta Al bisogno Di formazione Professionale Di specializzazione Professionale Con i profili Che interessano poi Alle imprese Che debbono assumere I ragazzi formati Questa risposta Non nasce necessariamente Da un aumento Delle fondazioni Che sono lo strumento Giuridico Che è adoperato Per realizzare Questi percorsi formativi Ma magari Da una loro migliore Articolazione Da un aumento Anche una specializzazione Mediante Professionale 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 Perché saranno Perché saranno fondamentali Anche all'interno Di un mercato Del lavoro Che come abbiamo detto È in continua evoluzione Ed è necessario Anche monitorare La qualità Dell'insegnamento Che viene appunto Esercitato Per tramite Del lavoro Delle fondazioni Quindi è necessario Monitorare Dal punto di vista Economico Come vengono spesi Queste risorse E la qualità Della formazione Che viene fatta Questo è fondamentale Non soltanto adesso Ma anche per il futuro Per modulare meglio L'offerta formativa Che viene data Che viene data Che viene data Che viene data Che viene data